Cosa vedrà il pubblico di Sarsena questa sera? Vedrà il berretto a sonagli di Pirandello, una delle commedie più straordinarie che siano state scritte dal grande drammaturgo a Grigentino. È una storia d'amore, di dolore, di verità, di finzione. Ovviamente c'è il classico triangolo del teatro, lui, lei e l'altro, però ovviamente visitato dalla grande mano, dall'occhio clinico e psicoanalitico di Luigi Pirandello che di ogni storia ne fa un dramma tragicomico come in questo caso con tante sfaccettature e tante verità possibili. Il pubblico sceglierà quale è la verità, la sua verità. Se l'avessi qua!